eccoci eccoci cari amici del canale youtube ben ritrovati con il secondo contributo di questo lunedì 5 febbraio ancora un saluto a tutti voi un grazie 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 per le iscrizioni al canale continuate non fermatevi mai e noi invece procediamo subito con il commentare le ultime notizie sul mondo rosso nero allora mianna che oggi riposa domani riprende gli allenamenti in vista della sfida contro il napoli nel weekend domenica sera milan napoli non sarà mai una gara qualsiasi riporta sempre ai grandi duelli del passato anche se quest'anno il napoli è davvero in difficoltà leggevo la differenza dei punti con l'anno con l'anno passato l'anno scorso in cui il napoli ha vinto lo scudetto sono 24 punti in meno per i partenopei il mio invece 5 punti in più rispetto all'anno scorso quindi sta già migliorando l'andamento della passata stagione la formazione rosso nera invece dando uno sguardo alla classifica dopo la partita di ieri tra inter e juventus la juve è solamente a quattro lunghezze dal milan juve 53 punti milan 49 allora io chiedo perché non tentare non provare di a questo punto acciuffare e anche superare la juventus in classifica al secondo posto è vero che tra secondo e terzo posto non cambia tanto ma attenzione a questa situazione forse a qualcuno sfugge ma nel nuovo format della supercoppa partecipano le prime due squadre che chiudono la classifica al primo al secondo posto quindi le prime due squadre della graduatoria e l'inter purtroppo ai noi è destinata a vincere il titolo e quindi parteciperà alla supercoppa italiana la seconda posizione potrebbe potrebbe giocarsela il milan con la juventus e questo è un fattore in più perché poi andando a giocare la supercoppa si possono innanzitutto incassare più soldi addirittura l'inter vincendo la supercoppa italiana ha portato a casa 8 milioni di euro e di questi tempi non si buttano ma poi ti giochi un trofeo giochi per vincere qualcosa e vedete negli ultimi anni il milan ha vinto poco ha vinto una supercoppa italiana ha vinto lo scudetto recentemente ma negli ultimi dieci anni sono poche le vittorie i trofei quindi portare a casa i trofei riempire la bacheca non è mai una cattiva idea quindi se il milan riuscisse a partecipare alla supercoppa tanto di guadagnato può portare a casa soldi e può portare a casa un trofeo è ovvio che se sul piatto mettiamo la possibile vittoria magari dell'europa league o il secondo posto perché forse portare avanti entrambi gli obiettivi per questo milan è complicato per una questione di turnover per una questione di infortuni per una questione anche di applicazione mentale alle partite e allora forse sul piatto si sceglie l'europa league questo è almeno il mio punto di vista anzi dite il vostro cosa ne pensate preferireste arrivare secondi e vincere l'europa league non vi frega del secondo posto l'importante vincere l'europa league o non vi frega di niente perché tanto l'obiettivo principale era entrare nei primi quattro posti e vince il campionato e purtroppo l'inter in questo momento sembra molto avanti rispetto alle altre alle altre squadre e almeno il quarto posto per il milan sembra un qualcosa di assodato no a 10 punti in più sul sul bologna che ha 36 punti anzi sulla sulla atalanta che ha 39 punti ma una gara in meno facendo quindi questi ragionamenti sulla classifica e guardando invece l'attuale panchina del milan c'è un giocatore di cui abbiamo parlato già diverse volte che entra e segna entra e fa gol entra e salve il milan in diverse situazioni parliamo di jovic ho aperto un sondaggio ho aperto un sondaggio sul canale youtube avete votato voi nella sezione community basta andare lì e votare ve lo riporto qua rinnovereste il contratto di una stagione a jovic la percentuale è schiacciante il 92 per cento hanno scritto si hanno votato si quindi diciamo che i gol stanno portando punti lui ha conquistato la fiducia dei tifosi anche della dirigenza perché si va verso il rinnovo annuale ma vedo che anche i tifosi sono contenti e vorrebbero trattenere jovic per almeno un'altra stagione sapete che il contratto di jovic si rinnova di anno in anno quindi se nel giugno del 2024 il mio decide di portarlo avanti di rinnovare scatta un'altra stagione poi può scattare ancora un'altra e ancora un'altra fino a tre stagioni quindi fino alla 2027 poi è anche chiaro che si potrebbe ridiscutere completamente con una nuova trattativa il contratto di jovic e magari fargli un contratto più lungo se davvero il mio ne è contento di questo giocatore voi siete contenti infatti avete votato sì al rinnovo di jovic ma c'è un ragazzo fenomenale un orgoglio del milan olivier girou ragazzi olivier girou sta facendo qualcosa di clamoroso in questa in questa stagione a numeri impressionanti 11 gol in in campionato e parliamo anche di 8 assist non è tanto il numero di gol perché comunque lui negli anni passati ha sempre superato la doppia cifra è sempre andato oltre i 10 gol ma sono gli assist girou in questo momento ha dei numeri strepitosi 10 11 gol e 8 assist sono tantissimi per un attaccante di 37 anni vuol dire che è un professionista esemplare un ragazzo che si impegna sempre un giocatore che dà l'anima per la squadra e gente così deve rimanere gente così deve essere all'interno di un gruppo ribadisco 37 anni 11 gol e 8 assist per un giocatore che è ancora a metà annata può ancora dire tanto può ancora dire la sua non solo in campionato ma anche in europa dove tra l'altro ha anche segnato i champions e tra l'altro è diciamo nella in una speciale classifica perché solamente kane del bayern monaco ha segnato più gol di lui di di testa girou ha segnato ben cinque reti di testa e questo fa di olivier girou un marcatore assolutamente eccezionale quando si tratta del gioco aereo quando si tratta di colpire di testa quando si tratta di decidere le partite con la sua arma speciale appunto l'elevazione lo stacco e anche la precisione nel buttare la palla in rete quando arrivano cross in area di rigore ma sono cross fatti per bene sono cross fatti con un certo calibro ecco e allora lì girou può davvero dire la sua peccato che non ne arrivano tantissimi durante la partita sono davvero pochi i traversoni decenti per olivier girou altrimenti girou potrebbe anche aumentare il suo bottino di reti ma è utile anche nel fare pressing nel nel fare le sponde quante volte ha fatto sponde girou l'ultima contro il frosinone con il colpo di testa per la corrente gabbia che ha buttata dentro primo gol stagionale e anche in generale primo gol con la maglia del mian in campionato per gabbia grazie appunto all'assistenza speciale di olivier girou quindi è un altro giocatore da preservare poi è chiaro alla fine di questa stagione sarà lui a decidere insieme alla famiglia se rinnovare un altro anno oppure provare un'ultima grande esperienza all'estero probabilmente in mls o in arabia saudita dipenderà poi anche da quello che deciderà lui insieme alla famiglia per il milan c'è disponibilità a trattare un altro anno e a rinnovare il contratto al 37enne olivier girou ragazzi io vi ringrazio come sempre tantissimo vi chiedo like commenti e soprattutto iscrivetevi al canale grazie ancora ciao